Racconti dal Derryling numero 4, 128 pagine di terrore in olio d'oliva. Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Bugs Comics, nella rubrica Samuel Stern e ovviamente nella rubrica fumetti. Questo con tutta probabilità dovrebbe essere l'ultimo mio video dell'anno, poi se ne ho la possibilità vorrei parlare con voi almeno di uno di questi due fumetti. Dylan Dogg e Samuel Sterna, però il tempo è tiranno quindi penso si vada ai primi giorni dell'anno prossimo, però incrociamo le dita io nel dubbio già ora vi faccio gli auguri di buon anno, vi ringrazio per avermi seguito per tutto il 2022 e mi auguro di trovarvi ancora nel 2023, di trovare anche nuovi amici di questa community, nuovi collaboratori eccetera eccetera. Sono molto molto contento di come è andato quest'anno dal punto di vista umano, umano misto a professionale, se così vogliamo dire, e spero che anche l'anno prossimo si bissi questa cosa o si migliori addirittura. Se per qualche ragione questo video è il vostro primo video in cui mi incontrate o comunque non siete ancora iscritti al canale, vi ricordo sempre di, se volete, di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vedete sul mio canale. Che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno tante storie da raccontare e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo Derry Lang, di come sta andando il Derry Lang in generale, di come sta andando Samuel Sterna in generale. Scrivetemi come sono andate le vostre feste con un titolo di Samuel Sterna, così facciamo, così fatemi sapere. Vi ricordo anche di seguirmi sugli altri miei social, tra cui Instagram, Twitch e TikTok. Ultimamente c'è stato un ribaltamento, sono meno attivo su Twitch e ho fatto qualche video interessante su TikTok, quindi se venite da TikTok, benvenuti. Grazie per essere venuti anche in quest'altro social. Ma bandoli chuancue, parliamo subito di questo Derry Lang, perché appunto ci sono 10 storie da brivido, ci sono 128 pagine di terrore. Come faccio a raccontare tutto in pochissimi minuti? Semplice, non lo farò. È impossibile raccontare, recensire 10 storie brevi senza fare spoiler, non mi piace fare spoiler sul Derry Lang proprio perché sono delle storie brevi. Posso dirvi grosso modo cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto in linea generale. Posso dire che, posso, posso dire, come diceva qualcuno, che questo Derry Lang è forse quello più, come si può dire, quello meglio riuscito, quello più affiatato rispetto a tutti i Derry Lang che ho letto. So che l'ho già detto anche nello scorso Derry Lang, ma qui si sono ancora, si sono migliorati ancora di più. Vuoi forse che il contenitore, ovvero le storie appunto del circolo Le Horla, sta volgendo a una conclusione che probabilmente vedremo con il prossimo numero di storie inedite, tra l'altro. Perché vi ricordo che queste storie le potete trovare anche nell'edizione Mostri o, come presumo in questo caso, nell'edizione Alieni della Bugs Comics, in libreria, in fumetteria. Ma chi come me non le aveva lette se le ritrova comunque su questo formato. Ma dal prossimo numero ci saranno nuove storie, ci saranno nuovi autori e, molto probabilmente, non è detto, ma molto probabilmente, magari si legheranno anche meglio alla storia contenitore. Però in questo caso, dove la storia contenitore appunto è stata scritta dopo, complimenti vivissimi a come hanno gestito il tutto. Sul finale, chiaramente, si va un po' accelerando, però è anche abbastanza giustificato da quello che sta cercando di fare Angus Daryling nel suo piccolo a questi poveri ragazzi. Mi piace vedere come i rapporti siano cambiati, si siano approfonditi, come la ragazza Sharon in questo numero sia molto più aperta, racconti molto di più dei suoi sentimenti, di come sta. Ovviamente non sta bene e Randy se ne sta accorgendo, probabilmente da parte di Randy quantomeno sta cercando di nascere, sta nascendo un piccolo interesse, un piccolo interesse anche amoroso per Sharon. Non so se sarà mai ricambiato in questo momento, chiaramente no, Sharon ha altri pensieri. Randy è molto preoccupato e mi piace che appunto si preoccupi, abbia dei sospetti sul circolo Le Horla. Invece è totalmente accantonata la side story della signora Peabody, che sappiamo essere molto molto pericolosa rispetto agli altri componenti. E invece qua si può dire che si conclude la storia dell'amico di Angus, il signor Clark, che appunto si rivela essere uno spirito anche agli altri partecipanti. Noi lettori già lo sapevamo, però qua lui si rivela, quindi immagino che nel prossimo Daryling ci sarà un membro in meno appunto del circolo Le Horla. Come ho detto all'inizio, il fil rouge che lega tutte e queste dieci storie sono appunto gli incontri con gli alieni, con esseri di altre terre. C'è qualche storia che parla di mostri espliciti o di mostri comunque nelle gesta, però grossomodo la maggior parte delle storie sono dedicate agli alieni. Vi dico, da persona che non ama assolutamente il concetto di alieno, soprattutto nel mondo horror, per me l'alieno è relegato nella fantascienza, quindi non lo vedo come qualcosa di sovrannaturale. Devo dire che ho apprezzato tantissimo come hanno trattato questi temi e sono riuscito ad appassionarmi molto appunto anche a queste storie di alieni, di come sono stati trattati. Mi è piaciuto molto. Faccio una rapida carrellata di titoli e con una piccola impressione su quello che mi hanno dato le storie, cercando di non spoilerarvi troppo. Innanzitutto, la prima storia, My Death's Restaurant, mi è piaciuta molto. Pensavo andasse a parare verso una direzione abbastanza ovvia, invece c'è stato un plot twist finale che mi ha entusiasmato. È stata una ventata di novità rispetto a quello che uno si aspetta quando inizia un po' a capire alcune cosette. L'ho visto per primo. L'ho visto per primo, è una storia dove invece non sapevo anche lì come andasse a finire, ma a me è piaciuto molto, diciamo, il riscatto finale di questa storia. Quando c'è un protagonista o un antagonista che dir si voglia è così fastidioso che provi soddisfazione nel vedere il suo destino compiersi. Terza età. Anche qua, plot twist inaspettato, perché appunto non lo hanno detto assolutamente fino alla fine. Potrebbe essere un B-movie della serie Freddy vs. Jason, ma l'hanno trattato davvero benissimo. Amore materno, una delle storie forse più strazianti. Su questa io quasi ci avrei voluto vedere una storia più lunga. Mi è piaciuto molto anche questo appunto, questo amore materno che... Questa speranza che poi svanisce comunque all'ultimo secondo. Io ti amo e tu mi guarisci. Anche qui una storia che parte in una realtà che sembra la nostra per poi verterà un mondo che è totalmente diverso. Una cosa molto interessante, però anche qui davvero avrei voluto vedere molto di più. Avrei voluto scoprire tantissimo su questa storia. Sarebbe bello vedere una storia lunga che approfondisce questa storia breve. Il grande sogno, classica storia in stile noir, ovviamente con risvolti lovecraftiani. Mi è piaciuta molto, mi è piaciuta l'atmosfera che si è creata. Qua invece una storia che chiaramente si conclude benissimo, che non si può migliorare allungandola appunto. Però ecco, è stato molto molto carino vedere una storia noir che prende queste pieghe. Quel che vediamo, storia onirica, che può tradire dal titolo rispetto a quella prima. Anche qua si parla un po' di sogni, di incubi se vogliamo. Nello spazio è una storia in quelle dove ci si può rispecchiare, onestamente, se sia del trascorso. E devo dire che avrei fatto le stesse scelte del protagonista in un certo senso. E quindi mi ha intrigato molto da questo punto di vista. È bello come si riesce a empatizzare con un personaggio che è nello spazio, fondamentalmente. È anche il bello di quando si sanno scrivere delle storie. Krampus, una festa che tra l'altro esiste davvero e voglio scoprire qualcosa di più anche qua l'anno prossimo. Molto 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 carina, molto carino il finale. Questo, diciamo, questo revisionismo storico da parte del protagonista che ha raccontato qualcosa omettendone altre. E ci fa capire, alla fine, con una tavola finale, come sono andate veramente le cose. Molto interessante. Regalo di anniversario, anche qui non sapevo in poche pagine rimaste come poteva finire una storia che sembrava parlasse di un tradimento. E devo dire che anch'io mi sarei aspettato, nonostante fossi nel Daryling e potevo aspettarmi la fine in questo modo, mi aspettavo tutt'altro. E invece è successo una cosa diversa e la cosa mi ha lasciato, diciamo, con questa contentezza di trovare un finale diverso da quello che mi aspettavo. Quindi complimenti a tutti gli autori, vedo se riesco a nominarli tutti adesso. Ovviamente Massimiliano Filadoro, Marco Savegnago, Federico Perrone, Fernando Proietti, Paolo Altibrandi, che saluto, Andrea Guglielmino, Dario Talarico, Luca Ruocco, Pietra Antonio Bruno, Gianmarco Fumasoli, salutiamolo, Alessio Maruccia, David Ferraci, Bruno Letizia, Francesca Vartuli, Adriano Barone, Pierluigi Minotti, Massimiliano Filadoro, rinominato, Riccardo Latina, Valentina Bianconi, Antonio De Luca, Alissa Barone. Complimenti a tutti, ragazzi, complimenti. Ovviamente non ho nominato i disegni, che sono molto diversi tra loro, molti stili diversi. Mi sono piaciuti tutti. Se io dovessi scrivere un mio fumetto, mi piacerebbe uno stile molto simile a quello della prima storia, del Maidas. Ma in generale, appunto, poi a ogni storia si accompagna anche uno stile particolare. Chiaramente se dovessi scrivere un noir, andrei a parare chiaramente su questo stile di disegno. Adesso non mi viene il nome di quello stile, ma è lo stile che si può trovare anche nella serie Batman di Animated Series, che ha questo tocco un po' retro, questo tocco anni 30. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Derry Lang. Io so che sono in ritardissimo sulla recensione del Derry Lang, ma se mi seguite su Instagram saprete che l'ho trovato molto tardi in edicola, sgarrando alle regole, diciamo, imposte prima dalla Bonelli e poi confermate anche da Fumasoli, di andare sempre nella stessa edicola. Io vado sempre nella stessa edicola, ma se dopo dieci giorni non trovo il fumetto, cambio edicola, ovviamente, presupponendo che nella mia edicola l'abbia già comprato qualcun altro e che quindi non vada a intaccare, appunto, i dati di vendita. Quindi, se succederà un po' di ritardo, sappiate che è per questo motivo. Io, ragazzi, come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine di questo video, con l'inchina e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci o al prossimo video o al prossimo anno. Non lo so ancora, ma lo scopriremo insieme. Grazie ancora e arrivederci a tutti.